Uno dei problemi fondamentali che speriamo nella primavera possano trovare l'avvio è la costruzione della terza corsia che è ormai necessaria per colmare una disfunzione perché per troppi anni è stata disattesa volutamente che unisce Mestre-Venezia con Trieste è un'autostrada questa a due corsie dove ha un punto tra l'altro per noi tragico e non ne comprendiamo il motivo che è il cessalto dove si contano i morti a decine ogni anno è un punto, un rettilineo dove non si capisce bene il motivo ma ormai è un classico cimitero